Nasce a Teramo la fondazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con l'obiettivo di portare avanti i progetti specifici di promozione del territorio contando sul sostegno non solo del pubblico ma soprattutto del privato. La necessità è quella di avere uno strumento che garantisca la promozione del territorio perché l'ente parco è un ente che nasce per preservare, per tutelare il territorio e che in partenza aveva anche una parte ridotta di stanziamenti per poter promuovere questo territorio ma che adesso con le difficoltà di bilancio, con gli stanziamenti sempre più ridotti non ha più questa possibilità, non ha i finanziamenti per poter promuovere. Però questo è un territorio che ha bisogno assoluto di essere promosso a livello regionale, nazionale e anche internazionale. La fondazione deve svolgere questa funzione portando avanti dei progetti specifici di promozione del territorio e contando sul sostegno non soltanto del pubblico ma soprattutto del privato. I progetti li abbiamo già preventivati, li abbiamo già studiati e sono tutti quanti pronti a partire dalla grande area faunistica sul versante Aquilano e Terramano che dovrebbe, sfruttando anche il turismo religioso di cui noi abbiamo grande segno portare un flusso turistico importante nelle nostre zone. e quindi la fondazione deve realizzare questi progetti, l'area faunistica, la strada del gusto da Terramo a Amatrice per promuovere i prodotti enogastronomici del nostro territorio e via via altri progetti specifici. Cerchiamo di portare avanti questo lavoro.